ben ritrovati su questo nuovo aggiornamento meteo per la prossima settimana nella nuova settimana che sta per arrivare vediamo l'anticiclone africano che sta aumentando l'espansione e quindi porterà nuovamente caldo e temperature anche di 40 gradi soprattutto in sicilia e sulle regioni tirreniche centrali tra lazio e toscana vediamo questo incremento dell'alta pressione l'anticiclone non demorde e quindi le temperature sono nuovamente destinate a salire ora vediamo le statistiche più o meno della temperatura le temperature che potranno essere registrate però la percezione è più alta la percepita e 3 a 4 gradi in più quindi abbiamo detto 40 gradi sulla sicilia quindi 42 44 gradi percepiti sul resto del sud 36 quindi 38 40 un po più fresco sul lato orientale dell'adriatico e sulle centrali cominceranno ad aumentare nella giornata di martedì e mercoledì con temperature di 40 percepiti 42 43 da come potete vedere dalla mappa delle temperature quindi abbiamo valori di 40 gradi sulla sardegna sicilia toscana e lazio mentre sul centro nord temperature che si agirano tra i 36 38 gradi qualche grado in meno sul resto del nord estate a gonfie vele siamo nella sua stagione però le temperature sono a sopra la media quindi ci sarà ancora da sudare con questo direi che è tutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle previsioni meteo e ci vediamo al prossimo aggiornamento ciao ciao